Allora, tu come ti chiami? Giovanni Il cognome? Promontore Ehi, subito! Ehi, ragazza, peccato subito! Ehi, ma complimenti, ma da dove vi? A San Nicolò Ehi, cosa fai nella vita? Il promontore del 2020, poi tu lo fai Porca miseria, ragazza, il formatore scientifico per i farmaci Ehi, hai dei campionati? Ehi, c'è anche il pilone blu Ehi, ragazzi, il promontore perfetto è C'ha pure il pilone blu Ma regalacene a noi E abbiamo bisogno a tutti E vai, alla grande, complimenti, complimenti Oh, ragazza, guarda il carino Oh, no, non scherzo, è proprio un promontore E noi, subiamo così E no, ragazzi, mica voglio andare a cambiare un nome Un nome di fatto? Oh, veramente, veramente Oh, che ti devo dire A qualcuno capita Allora, vediamo se abbiamo un altro messaggio Bene Messaggio Oh, anche due messaggi Oh, questa roba deve essere molto bella O molto ricca Numero 23 Che è questa roba, ragazzi? Due messaggi per la numero... Ehi, lai, lai, lai Eccola qua, ragazzi Oh, ma due addirittura E porti via anche le amiche due Come ti chiedono? Lugia 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 Tra l'abbigliamento firmate Le pillole blu Notaio Stasera ti amo la grande, eh? E bravo, benissimo Come vorresti più un uomo ideale? No, no, no